Buongiorno Regione Buongiorno a tutti, buongiorno a te Maria Rosa Prosegue la fase di alta pressione con tempo stabile e condizioni favorevoli agli accumulo degli inquinanti In questo momento in pianura segnaliamo foschie dense e banchini debbia un po' su tutta la pianura per lo più bassa Mentre sui rilievi il cielo risulta in prevalenza soleggiato come mostra anche la webcam Le temperature si aggirano intorno ai 12 gradi e i venti risultano deboli ovunque Ma per tutti i dettagli sulle previsioni vi aspetto nel prossimo collegamento Il nostro approfondimento sarà oggi dedicato a quella che è considerata un'eccellenza bresciana Che si trova però in grave difficoltà a rischio chiusura Stiamo parlando del centro non vedenti che opera per favorire l'inclusione sociale scolastica Di circa 150 ragazzi, problemi finanziari ed amministrativi Anche di questo e della preoccupazione di circa 30 lavoratori Parleremo questa mattina in diretta con le nostre telecamere esterne A Brescia c'è Pierluigi Ferrari Pierluigi dove ti trovi? Sì, buongiorno, sono nel centro non vedenti Una vera e propria istituzione, come dicevate, per Brescia e per i bresciani Che da decenni, un'emanazione di comune e provincia Da decenni affianca le famiglie e le scuole Per l'integrazione e il pieno inserimento dei bambini non vedenti e ipovedenti Dicevate problemi, problemi molto gravi Da quando la competenza per questo tipo di problemi è passata Dalle province alla regione E da quando la regione ha emanato in questo settore nuove linee guida Ne parleremo tra poco con tutti i protagonisti Come ogni venerdì avremo poi la nostra rubrica Wicco Cultura Dedicata agli eventi più significativi del fine settimana culturale in Lombardia Cominciamo però con il nostro notiziario Ancora in primo piano il problema dello smog Che attanaglia tante città della nostra regione Valentina David Sì, è un'emergenza che non si arresta I limiti di polveri sottili sono stati ormai superati in quasi tutta la regione Addirittura doppiati in alcune zone Da Milano a Lodi Da Bergamo a Pavia Ultimo capoluogo ad aver introdotto i divieti per i diesel Allora andiamo a vedere il quadro complessivo regionale con Laura Troia I colori sulla mappa della Lombardia del sito ARPA rappresentano quello che sta succedendo in questi giorni Anche le zone che fino a lunedì non registravano sforamenti nella concentrazione di polveri sottili Da Como all'Ecco a Varese adesso superano la soglia di 50 microgrammi di PM10 al metro cubo In diverse centraline da Milano a Bergamo a Pavia e Lodi si arriva a superare i 100 microgrammi Praticamente il doppio del limite Il numero di giorni di sforamento ha raggiunto gli otto consecutivi in provincia di Milano Monza Brianza, Bergamo, Brescia, Mantua Nove giorni in provincia di Lodi e Cremona Sala a giorni vedrà i sindaci di Londra e Parigi sul tema smog e metropoli Su lungo termine questa situazione è intollerabile, dice Ma ci vogliono soluzioni che diano il tempo alle città di abituarsi Intanto resta attivo il piano interregionale antismog Con tanto di blocco del traffico per i diesel fino ad Euro 4 I piccoli comuni possono aderire volontariamente L'obbligo è per quelli con più di 30.000 abitanti Ma non tutti lo hanno seguito E chi ha aderito in molti casi non fa controlli E si affida alla buona volontà dei cittadini Una vera e propria industria criminale delle truffe agli anziani È stata sgominata una banda che agiva tra la Polonia e Milano Sentiamo Giulia Serenelli Ecco una scena che si è ripetuta troppe volte Una signora anziana in strada si avvicina ad un uomo Gli consegna dei soldi È convinta che serviranno ad aiutare un nipote in difficoltà Perché questo le hanno fatto credere al telefono Decine e decine di chiamate da parte di un finto parente Così l'hanno convinta a consegnare denaro o gioielli Era in questo modo che agiva la banda Centrale operativa in Polonia Lì un call center selezionava e circuiva le vittime Sempre anziani i più deboli e indifesi Italiani e polacchi Etnia Rom in 12 sono stati arrestati Tre sono latitanti Una finta nipote era riuscita a distorcere ad un'anziana nonna 8 mila euro all'inizio Gli ne aveva chiesti 10 I centralinisti dalla Polonia Riperivano dati e informazioni Simulavano persino la voce dei parenti E così le vittime cadevano in trappola Sono andato giù sempre con i soldi così I carabinieri dalla finestra di casa hanno visto tutto Appena questa ragazza ha visto la busta con i soldi Me l'ha tirata dalla mano Ma i carabinieri sono arrivati prima di lei E l'hanno arrestata Il divorzio, l'assegno di mantenimento per i tre figli Un debito cresciuto a dismisura Così il comico televisivo Marco Della Noce Si è ritrovato a dormire in macchina Ha raccolto la sua storia Alberto Ambroggi Nessuno sapeva nulla Perché io comunque Non è che c'è anche un po' un pudore Di raccontare fino in fondo Solo che gli eventi sono andati così avanti Che sono arrivato a questo punto E' arrivato al punto di dormire in macchina In un parcheggio di Lissone in Brianza Dalle luci della ribalta alla disperazione più buia Il passo può essere breve E' il caso di Marco Della Noce 59 anni, comico, noto al grande pubblico per Zelig E poi passato anche da Made in Sud Tre anni fa il divorzio dalla moglie Un assegno di mantenimento per i tre figli da 2500 euro Che riusciva a pagare solo in parte E un debito che è cresciuto Della Noce si è trovato così in mezzo alla strada In macchina ha dormito un paio di notti Poi i titolari, i dipendenti e anche i clienti Di un bar di Lissone Che si affaccia proprio su quel parcheggio Gli hanno prima pagato una stanza in hotel E poi l'hanno ospitato a casa Nel frattempo è in cura per depressione nei guarda Ma ha deciso di raccontare la sua storia Che questa storia aiuti anche i papà Che non hanno voce E' anche essenziale far capire Che un papà che non ha Un luogo dove vivere Non può vedere i figli Se non nel pomeriggio al bar Ma non va bene Il calcio deludente Pareggio del Mila San Siro in Europa League Ci sono stati anche dei fischi Sentiamo Francesco Rocchi L'Europa per dimenticare il campionato italiano In attacco Montella per centrale La terza vittoria consecutiva europea Si affida al duo Cutrone Andresilva Con la novità di Suso Mezzala Ritmi lenti fin dai primi minuti Alla mezz'ora pasticcio difensivo di Musacchio Per poco Scimoes non ne approfitta La palla danza lungo la linea della porta Prima di uscire sul fondo La risposta del Milan arriva dopo 45 minuti Con Andresilva e Buonaventura Rispettivamente murati dalla difesa greca Ad inizio ripresa come nel derby E' un Milan più aggressivo Cialanoglu dopo una decina di minuti Ci prova da fuori area La partita di Andresilva inconsistente Finisce dopo 60 minuti Si rivede Kalinic Le occasioni più ghiotte Toccano a Cutrone al 24esimo minuto Ma è bravo Anestis a chiudergli lo specchio E dopo 10 minuti a Suso Lanciato da Kalinic Che si fa murare dal portiere greco Ancora decisivo Finisce 0-0 tra i fischi del pubblico Troppo poco per il Milan Che tiene sì la testa della classifica Nel proprio girone Ma fallisce il tentativo di riscatto Che tutti si aspettavano E sempre in Europa League Continua invece la favola dell'Atalanta Andrea Riscassi L'Atalanta festeggia i suoi 110 anni In una cornece d'applausi Anche a Mapei Stadium E davanti ai 15.000 fan Sfodera la solita grinta Contro i ciprioti dell'Apollon Dopo 4 minuti Gomez a scaldare i guantoni Al portiere cipriota E al dodicesimo Nerazzurri già in vantaggio Azione bellissima Di Spinazzola Che semina il panico Nella difesa ospite E poi serve un assist Al bacio Per Ilicic Che deve solo appoggiarle in rete Due minuti dopo Lo stesso Ilicic Serve una palla d'oro Per Froiler Che non riesce a superare Bruno Vale Al quarantunesimo Lo stesso Froiler Tira ma il portiere cipriota In qualche modo respinge La ripresa ricomincia subito Con Gomez Che spara sul portiere Dell'Apollon In disperata uscita Tanti gol sbagliati Arriva quello Beffardo dell'Apollon Che in contropiede Pareggia con Schembri Un tiro Un golpe di ciprioti Al diciottesimo Ilicic serve Gomez Che con un pallonetto Colpisce la traversa E l'antipasto Un nuovo vantaggio Che arriva con un bel colpo Di testa di Petagna Passano due minuti La dea di Laga Sempre grazie a Ilicici Che serve di petto Froiler Che insacca il 3-1 Atalanta Sempre prima Del suo girone Ci rivediamo tra poco Per la rassegna Dei quotidiani locali Maria Rosa Alle 7.40 minuti Andiamo a scoprire Qual è la situazione Della viabilità In Lombardia Da radio traffic Mitafermi Buongiorno Grazie Buona giornata A tutti voi Il traffico è intenso Questa mattina Non abbiamo almeno Per il momento Segnalazioni di incidenti Si viaggia in coda Sulla Milano-Meda Tra Cesano-Maderno E Cormano In direzione del capologo Lombardo E poi Sulla 4 Milano-Venezia Tra Monza e Certosa Verso Torino E tra Piero e Cormano In direzione Venezia Si rallenta poi Sulla Milano-Lecco Tra Seregno e Milano E anche sulla 8 Milano-Varese Tra Fiera Milano E l'innesto Con la 4 In direzione del capologo Lombardo Il traffico intenso Sulle tre tangenziali milanesi Si registrano Code a tratti E tutto Buona giornata 150 ragazzi Una trentina di dipendenti Stanno vivendo Con una certa preoccupazione L'attuale stato Di difficoltà Del centro Non vedenti Di Brescia Problemi finanziari Amministrativi Qual è la reale situazione? Andiamo in diretta Da Pierluigi Ferrari Che ci racconta tutto Con i suoi ospiti Pierluigi Sì, rieccoci al centro Non vedenti di Brescia Dicevamo prima Una vera e propria istituzione Per Brescia E per i Bresciani È dal 1973 Che con diverse forme Questo centro Fornisce servizi Si affianca alle scuole Si affianca alle famiglie Per garantire L'integrazione Di questi bambini Non vedenti E ipovedenti Dicevamo Grossi problemi Da quando Le competenze Per le disabilità Sensoriali Sono passate Dalle province Alla regione Da quando la regione Ha emanato Nuove linee guida Nel settore Ma prima di parlare Di questo Gravissimo problema Per il centro Non vedenti Vediamo Che cosa fa Il centro Non vedenti Con noi c'è Fiorella Liberini Che coordina Una parte Delle attività Del centro Ecco voi Che cosa fate Esattamente Il nostro È un servizio Molto articolato Che si è costruito Negli anni Circa 40 anni E diamo Principalmente Un intervento Diretto nella scuola Di supporto Ai docenti E alle famiglie Per i bambini Che hanno Cecità assoluta O ipovisione Forniamo Un servizio Di trascrizione Testi Capillare Per intenderci Trascriviamo Circa 600 testi L'anno Ecco voi Prendete i testi Delle classi Delle scuole Vi viene fornito Il titolo E voi li trasformate In testi Che possono essere Utilizzati Da non vedenti E ipovedenti E così Trascriviamo In braille Per cui stampa braille Siamo in grado Di fornire Mappe sensoriali Schede sensoriali Tattili Trascriviamo testi In formato Ingrandito Personalizzato Per ogni tipo Di visus Che il bambino Ipovedente ha E questo voi Lo fate per l'inizio Dell'anno scolastico Addirittura Noi iniziamo In primavera A trascrivere I testi Per la scuola primaria Che saranno Poi forniti A settembre Con l'inizio Dell'anno scolastico Lavorate molto Anche sull'aspetto Informatico Assolutamente Sì Da molti anni Noi abbiamo Un servizio Di consulenza Nella scelta Degli ausili Informatici Perché i bambini E i ragazzi Devono rendersi Autonomi Nello studio E le tecnologie Informatiche Offrono questo I nostri tecnici Sono in grado Di costruire Un percorso Per ogni bambino E formazione Ai docenti Alle famiglie E al bambino stesso Quanti bambini Quante scuole Quante famiglie Seguite Allora I bambini Quest'anno Sono circa 120 Abbiamo una rete Di circa 180 scuole E noi siamo in grado Di fornire Circa 70.000 80.000 Pagine Di testo All'anno 80.000 Riferite al testo Non ingrandito Tutto questo È a rischio E ci spiega Il perché Il presidente Del centro Non vedenti Piero Misinella È a rischio Perché le linee guida Che ha emanato Il regione Lombardia Che sono una cosa buona Per i territori Dove non esisteva nulla Non hanno tenuto conto Di ciò che esisteva In provincia di Brescia Già Ci sono province Che hanno agito In maniera diversa La provincia di Brescia Il Comune di Brescia Attraverso noi Che eravamo Fino a ieri Il braccio operativo Che si occupava Di disabilità sensoriale E la scuola audiofonetica Per quanto riguarda La disabilità uditiva Ci siamo sempre occupati Di questo settore E per ogni bambino C'era un progetto diverso Le linee guida Danno degli standard Normalmente In qualsiasi scuola Di servizio sociale Quando si vuole fare Una legge Su un settore Su una questione Che riguarda Che ricade sul territorio Si va a mappare Il territorio E si mette in salvaguardia Ciò che si ritiene Eccellenza Come ci è stato dichiarato Da tutti Rispetto a quella questione Ma cos'è che non va Nel centro non vedenti Che noi facciamo Dei servizi Che non sono neanche Compresi nelle linee guida Che la rendicontazione Ci obbliga a omologare Tutti i bambini Nello stesso modo Con una rendicontazione Bulgara Oserei dire Che non sta dentro A un progetto educativo Che deve essere individuale Perché ogni bambino Ha bisogno di alcuni interventi E non ha bisogno Di altri interventi Cioè Paradossalmente Le linee guida Sono anche un'opzione Allargante Rispetto ai servizi Ma non è detto Che questi servizi Possano servire Davvero al bambino Il problema Presidente È economico O di natura giuridica Entrambe le cose C'è un problema economico Perché poi Adesso Il meccanismo Che è stato messo in piedi È un meccanismo Che ha impedito Per mesi Ai bambini bresciani Che avevano normalmente Avuto i testi All'inizio dell'anno Di non averli più Bene Allora Noi abbiamo chiesto A due consiglieri regionali Della Lombardia A Fabio Rolfi Della Lega Nord E a Gianni Girelli Del PD Di affrontare Questo problema Sentiamo che cosa Ci hanno detto Beh innanzitutto La vicenda nasce Dal fatto che La regione Ha a disposizione Dallo Stato Appena 14 milioni Sui 38 Che servono Per questa funzione Delegate Adesso ce li mettiamo noi Detto questo Dal punto di vista Economico Problemi Io credo che non ce ne siano Perché il centro Avrà Lo stanno vedendo Le stesse risorse Dello scorso anno Seppur Rendite in maniera Differente Bisogna invece Trovare le modalità Per strutturare Giuridicamente Questo centro Che oggi Un'associazione Caso più unico Che raro Nel panorama Lombardo In un ente Che possa invece In maniera solida Nel tempo Erogare queste prestazioni In un quadro Legislativo Che è cambiato Prendere atto Che quando ha steso Le linee guida Non ha tenuto conto Di una specificità Come quella bresciana Che a differenza Di altri territori lombardi Rappresenta un unicum E un qualcosa Di più innovativo E anche di più Adeguato L'esigenza Delle famiglie E dei bambini Non vedenti È chiaro che questo Implica la capacità Di stanziare E mettere a disposizione I soldi Che sono stati previsti In bilancio In emergenza Ma soprattutto Sedersi al tavolo Con calma Riscrivere le regole E fare in modo Che possono essere Adeguate Anche in realtà Come questa È una delle vere Eccellenze Lombarde Con noi C'è anche La signora Michela Che è la mamma Di Anna Che è seguita Dal centro Non vedenti Da sempre Praticamente Adesso fa la prima Superiore Signora Quanto è importante Per voi famiglie Il centro non vedenti Allora Il centro non vedenti Per noi famiglie È molto importante Anche perché Il centro Ogni anno Fa un programma In base Al bambino Per renderlo Autonomo Sia a scuola Che Con i compagni In classe In pratica Le fa Tutti i libri Sia in cartacei Quindi diceva Rendere autonomi Anna è stato così per te Sì sì Cosa si è fatto per te Il centro Sono seguita Dal centro non vedenti Dalle elementari E mi ha aiutato tanto Sia ad essere indipendente Che con le strumentazioni E Che libri hai avuto dal centro? Sia cartacei Che informatici Ecco Sul piano informatico Voi siete anche più Agili di solito Degli adulti Invece vi hanno aiutato comunque Sì sì Benissimo È tutto dal centro Non vedenti Vi restituisco la linea Per il momento Della nostra rassegna stampa Valentina David Sì Anche sui giornali locali Ovviamente In primo piano C'è l'emergenza Smog Vediamo il titolo Di apertura Della provincia Pavese Soglia di sicurezza Doppiata Per le polveri sottili Superata quota 100 Pavia ferma Gli Euro 4 Vigevano Decide oggi Parliamo ovviamente Dei diesel Ci spostiamo Sul giornale di Brescia Anche in questo caso Per parlare Del blocco Per i diesel Euro 4 Vediamo le decisioni Per quanto riguarda Brescia Via libera Per l'Euro 4 Se risulta con bassa emissione L'auto può circolare Quando figura Un determinato valore Di 0,020 Una decisione specifica Della polizia locale Di Brescia Andiamo avanti Con la Repubblica Nell'apertura Di Milano Appunto il grande Vertice Delle metropoli Per affrontare L'emergenza Smog Il sindaco Sala Andrà a Parigi Situazione Intollerabile Dice il primo Cittadino Autocondivise Zero diesel Il patto Antismog Per il futuro Ci spostiamo Ora sulla prima Della Corriere Di Milano Per due Titoli Andiamo a vedere Il titolo di apertura In qualche modo Sempre legato anche Alla questione Smog Perché si parla Di bici Condivise Le bici condivise Saranno estese Alla grande Milano Ma basta Vandali E poi Andiamo a spostarci Anche in centro pagina Per una seconda notizia Invece di cronaca Giudiziaria A favore Ai clan Scarcerato L'uomo chiave Dell'inchiesta Di Seregno Mancano gravi indizi Torna libero L'imprenditore Lugarà Proseguiamo Con i giornali Dalla Lombardia Andiamo Alla prima Dell'Eco Di Bergamo Con un'indagine Sui giovani Gli adolescenti Bergamaschi Ragazzi Sempre più connessi Dice il titolo Dell'Eco Il 7% Rischia danni Alla salute Indagine Della TS Di Bergamo La maggioranza Navica in internet Fino a 5 ore Al giorno Ci spostiamo ora Sulla prealpina Con una questione Che riguarda Il comune Di Gallarate Gallarate Che minaccia Di uscire Dal parco Del Ticino Siamo ovviamente In provincia Di Varese L'amministrazione Comunale Mette sotto accusa Gli eccessivi Vincoli Paesaggistici Del parco Andiamo avanti Con la provincia Di Como E con le questioni Delle code Sulla statale Regina Che interessano Tanti automobilisti Dopo la protesta Arrivano i movieri Il caso sollevato Dalla provincia Centra l'obiettivo Ci saranno anche domani Per il rally Proseguiamo Spostandoci Su un altro giornale Locale Che è la provincia Di Lecco Con la vendita Dell'azienda Fiocchi Al fondo di Montezemolo Fiocchi ha incontrato Gli operai Non temete Restiamo qui fuori Dalla fabbrica Il presidente Dell'azienda Ha dato rassicurazioni Ai dipendenti Ovviamente Sui posti Di lavoro Andiamo avanti E con la provincia Di Cremona Con una questione Che riguarda La viabilità Locale La strada sud Spacca Il partito democratico In provincia Di Cremona Sebca replica Del segretario Cittadino Al sindaco Di Gerre De Caprioli Che in una lettera Agli primi cittadini Aveva parlato Di infrastruttura strategica Invece Il PD Conferma la scelta La strada sud Non si farà Non si tornerà Indietro Poi Andiamo a vedere Il giorno Anche in questo caso In prima pagina nazionale C'è una storia Che avete sentito Anche prima Nel telegiornale Tutti mobilitati Per il comico In rovina Alissone Solidarietà Per Marco Della Noce Il comico Di Zelig Noi adesso Andiamo a chiudere La rassegna Con la gazzetta Dello sport Con le partite Di ieri sera In Europa League Vediamo Il titolo Sulla Talanta Nella Nella gazzetta Dello sport Altri tre gol L'Eurodea Non sbaglia Un colpo A Reggio Emilia I ciprioti Dell'Apollo Sono stati Battuti Per 3 a 1 Ma vediamo invece Per quanto riguarda Il Milan In centro pagina Con la grande Fotonotizia Montella Pianto greco Europa League Il Milan È stato fischiato Poco gioco E nessun gol Contro la EK Patene Solo 0 a 0 San Siro Perde la pazienza E il tecnico Montella Perde quota È tutto di nuovo Maria Rosa Ora la nostra carrellata Dedicata agli eventi Del fine settimana In Lombardia Week Cultura Alessandra Costa La cripta Della chiesa Di Sansepolcro A Milano È la suggestiva Cornice In cui ha Riambientato Tra i suoi Celebri Lavori L'americano Bill Viola Da 30 anni Creatore di Video installazioni Che fondono Tecnologia E spazio Architettonico A Palazzo Reale Dipinti Incisioni E manifesti Restituiscono Le atmosfere Della Parigi Notturna Di fine ottocento Nella mostra Dedicata A Henri Toulouse Lautrec Al broletto Di Pavia 70 scatti In bianco E nero Celebrano Il fotografo Francese Robert Duanot Nella mostra Pescatore Di immagini Al piccolo Teatro Grassi Di Milano Giulia Lazzarini È magnifica Interprete Di Emilia A dramma Di amori Estremi E prigionie Affettive Scritto E diretto Dall'argentino Claudio Tolcacir Sempre a Milano Al teatro Carcano Filumena Marturano Di Edoardo De Filippo Prima regia teatrale Di Liliana Cavani Protagonisti Mariangela D'Abraccio E Geppi Gleieses Hans Garvallenhorst Tra i migliori improvvisatori Della sua generazione È ospite stasera Nella chiesa Di Sant'Alessandro Della Croce In Pignolo Nel 25esimo Festival Internazionale Organistico Città di Bergamo A Iseo Il pianista Mauro Locatelli Apre domenica sera La quarta edizione Della rassegna Iseo Classica Tutti giovanissimi Protagonisti Dei sette concerti Dedicati quest'anno Al virtuosismo strumentale Domani sera Al forum di Assago Daniele Silvestri Chiude il tour di Acrobati Con molti amici artisti Coinvolti nella serata A Milano Al teatro Menotti Il musical di Giancarlo Fares Le Ball L'Italia balla Dal 1940 al 2001 Un pezzo di storia Sulle note Delle canzoni Più celebri Del repertorio pop nazionale Al teatro dell'arte Domani e domenica Butterfly Della compagnia Kinkaleri E' tra gli appuntamenti Di Uovo Kids Festival milanese Di arti performative Dedicato ai bambini Sempre nel fine settimana A Milano Visite animate E spettacoli Per l'inaugurazione Del teatro Del buratto In Maciacchini Nuovo spaccio Tutto dedicato Ai più piccoli Per la rassegna Di danza Contemporanea Milano Oltre Domani e domenica Allo spazio Marras Il coreografo Enzo Cosimi Presenta La bellezza Ti stupirà Dedicato al mondo Degli emarginati E dei senza dimora Domenica Un itinerario Tra il lago di Como E l'Adda Propone di scoprire I luoghi Dei promessi sposi E del suo autore In occasione Della terza giornata Nazionale Dei parchi letterari Quello dedicato Ad Alessandro Manzoni E' l'unico In Lombardia Sempre domenica Cormano Si conclude Con la staffetta Di lettura In pubblico Il 13esimo Ottobre Manzoniano Se avete notizie Curiosità Storie Da raccontarci Scrivete Alla nostra redazione Tramite l'email Buongiorno Regione Punto Lombardia Chiocciolarai.it La pagina Facebook Buongiorno Regione Lombardia Oppure l'account Twitter Chiocciola BGR Lombardia E' il momento Di guardare Al meteo Ancora una volta Approfondendo Quello di oggi Ma anche Uno sguardo Al fine settimana Michele Cicoria Darpa Lombardia Ben ritrovati L'alta pressione Insisterà sulla nostra regione Oggi e domani Mentre da domenica E' atteso un veloce Peggioramento In arrivo da ovest Ma entriamo nel dettaglio Di previsione Partendo da questa mattina Che come mostra la grafica Avremo ancora Nebbie diffuse In pianura Ma in graduale Dissolvimento Partendo da ovest Nel corso del pomeriggio Maggiore prevalenza Di sole Un po' su tutta la regione Intervallata solamente Dal transito Di innocue e velature In serata invece Ci attendiamo Qualche velature in più Soprattutto sui rilievi Mentre dalla tarda serata Tenderanno gradualmente A riformarsi Le nebbie Sulla pianura Le temperature massime Per la giornata odierna Si fermeranno Intorno O inferiori Ai 20 gradi I venti resteranno Deboli ovunque Con scarso rimescolamento Dell'aria Ma passiamo adesso Al tempo Per il fine settimana Partendo dalla giornata Di domani 21 ottobre Che vedrà ancora Nebbie diffuse In pianura Al mattino Ed un generale aumento Della nuvolosità A special Durante il pomeriggio Infine Rapido sguardo Alla giornata Di domenica Che come mostra La grafica Mostra un rapido Peggioramento In transito Da ovest Verso est Che tenderà A concentrarsi Soprattutto sui settori Orientali Della regione Il miglioramento Si affaccerà Nel corso del pomeriggio Ad ovest Della Lombardia Con un generale Aumento del vento Che garantirà Dunque Un rimescolamento Dell'atmosfera Con condizioni favorevoli Quindi alla dispersione Degli inquinanti Le temperature Saranno stazionarie Domenica In pianura Mentre tenderanno A un rapido calo Soprattutto sui rilievi In chiusura Vi ricordo Che per maggiori dettagli Sulle nostre previsioni Vi invito a scaricare La nostra app Meteo Di Arpa Lombardia Disponibile Gratuita Sul vostro smartphone Con questo Davvero concluso Auguro a tutti Un buon fine settimana Ancora qualche notizia Valentina David Notizie di cronaca Giudiziaria Il caso della Bancarotta Dell'ospedale San Raffaele Di Milano Per la Cassazione Da rifare Il processo All'ex faccendiere Pierangelo D'Acoa Amico e compagno Di vacanze Dell'ex presidente Della Lombardia Roberto Formigoni D'Acoa Era stato condannato A nove anni Di carcere In via definitiva La Suprema Corte Ha disposto La revisione Di quel processo In appello A Venezia Determinante La circostanza Che altri Coimputati Per lo stesso Reato Siano stati Assolti E' stato scarcerato Dopo quasi un mese Di detenzione Antonino Lugarà L'imprenditore Arrestato nel Maxi Blitz Delle procure Di Monza E Milano Contro Andrangheta E corruzione Lugarà Era accusato Di corruzione Per aver procurato Voti all'allora Sindaco di Seregno Edoardo Mazza Finito ai domiciliari In cambio del via libera La realizzazione Di un centro Commerciale Il tribunale Del riesame Ne ha disposto La liberazione Per mancanza Di gravi indizi Di colpevolezza Lugarà Era ritenuto Tra l'altro Nelle carte Dell'inchiesta Una sorta Di tradunione Tra esponenti Dell'Andrangheta E il mondo Istituzionale La parola Maria Rosa Abbiamo finito Solo il tempo Di salutarvi Di ricordarvi Che Buongiorno Regione Torna lunedì Buon fine settimana Grazie di essere Stati in nostra compagnia Lombardia Referendum per l'autonomia Domenica 22 ottobre Dalle 7 alle 23 Si vota in Lombardia Per il referendum consultivo Per chiedere allo Stato L'attribuzione di forme E condizioni particolari Di autonomia Vota sì Chi è d'accordo Con tale proposta Vota no Chi è contrario Vota a scheda bianca Chi non esprime Una posizione Non è previsto Un quorum Cioè un numero minimo Di votanti Affinché il referendum Sia valido L'elettore voterà Come di consueto Nel proprio seggio elettorale Ma la vecchia scheda cartacea Sarà sostituita Dal voto elettronico Per votare Occorre recarsi Presso il seggio Indicato Sulla propria tessera elettorale Con un documento Di identità valido Gli elettori Sprovvisti Della tessera elettorale Possono rivolgersi Agli uffici Del comune Di residenza Per conoscere L'ubicazione Del proprio seggio Tutte le informazioni Sul referendum Sono disponibili Su Regione.lombardia.it Rai.it E sulle pagine Di televideo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada